La Toscana di Leonardo è il titolo dell'imponente programma di mostra e convegni e spettacoli che celeberanno dalla fine del 2018 a tutto il 2019 il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Nelle immagini vedete la presentazione delle iniziative che si è tenuta appunto a Vinci, il suo paese natale. Gli eventi messi in calendario non si terranno soltanto nei luoghi leonardiani, ma in tutta la Toscana, da nord a sud, utilizzando diversi linguaggi e discipline artistiche. Sarà molto importante sia dal punto di vista della conoscenza e della comunicazione per i nostri cittadini e il nostro paese, sia anche per i turisti, raccontare in un unico luogo tutte le iniziative che sono organizzate per celebrare il genio di Leonardo. E sicuramente queste celebrazioni, a mio avviso, è una grande occasione di promozione culturale e turistica della Toscana, perché Leonardo, nonostante sia un patrimonio dell'umanità, ha vissuto in tanti luoghi, è sicuramente il migliore interprete del genio e della creatività toscana. Il Comitato Nazionale delle celebrazioni leonardiane ha inserito nel suo programma generale alcune delle iniziative che si svolgeranno in Toscana. È logico che i due centri protagonisti sono vinci, per ragioni ovvie, così come Firenze, che è il luogo dove ha trascorso la maggior parte del suo tempo in Toscana, Leonardo. Quindi il calendario è fitto, con iniziative anche di grande valore nazionale e internazionale, dove attendiamo frutti importanti sia di partecipazione degli studiosi, sia di movimenti turistici. La Regione Toscana ha sottoscritto un protocollo di intesa anche con la Regione francese Sontre-Val-de-Loire, l'ultima terra di residenza di Leonardo, per la promozione incrociata e reciproca dei luoghi della cultura coinvolti nelle celebrazioni.